a me pare pronto? eh pronto buonasera sono Mastanilla buonasera a voi sentite, io dico la roba che ho un po' calma no? città che si vengono a scaricare stasera o rimano a mattina? chi è Mastanilla? Mastanilla è lavoro, un frappagatore signor buonasera c'è sto marito vostro che lo sa? eh no perchè voi state parlando conmigo perciò hai capito? non lo so ma è nozzolina nero? è nozzolina signor? ah volete passare a mio marito o figlio? non lo so ricci tu a Michele a Michele ah spero che l'è nato il creatore a Nello ma voi chi siete? signor sono Mastanilla, Mastanilla è lavoro, un frappagatore c'è stato marito vostro? chi c'è stato? Mastanilla è un frappagatore chi è da scaricare? signor faccio parlare con voi, con vostro marito facitemi capito voi siete capito a Michele? signor hai sbagliato un ordine di Michele lo tengo con la roba, hai capito? hai sbagliato eh eh ma voi a chi volete voi? a Nello a Nello signor a Nello eh a Nello dove vai a gioia a parma? chi lo parma non c'è più ah non c'è capito ma chi ci stacca? io voglio parlare con un coccoruro signor con un maschio posso parlare? uno che porta un cazzo non vuole? che faccia? eh io pure porto un cazzo, lui che porto? ma non c'è che fermano sempre a me ma non c'è che fermano che non si può parlare oggi i giorni non si può parlare oggi i giorni non servono a Nello non servono a Nello signor ma non servono a Nello vuoi da scarregare la roba? quale roba vuolete scarregare? allora signor si lo state senti per la roba che hai già scarregato? si parlate sempre di un pozzerino? eh sì da voi state parlando voi? oh state parlando voi veramente? sì sì ma stanno parlando voi? ah ma vicino a voi chi è capo? io sono con Giovaniello l'aiutando un giovane eh scusate voi a chi vuoi? nozzolino eh nozzolino? nozzolino si signor ma voi siete femmina da fare la cacetta non hai da parlare di queste cose eh voi non siete femmina no io sono con signor io che le dalle 70 euro di anni è un giovane mio eh frate Matteo eh voi volete a nozzolino o a Nello? eh no volete a nozzolino eh hai già capito il buono o no? ah via via che so che via via si signor comunque che la crema si d'ampresse perché andiamo a scaricare questa roba ho riparato 3-4 carte di 100 euro e stiamo venendo all'occo eh preparatelo voi e portatelo a noi che non c'è serve signor sentite noi abbiamo ricevuto un ordine in Coppa Nufac sennò che andiamo a scaricare questa roba stasì preparate il sor e ce ne ha oh e che ci vuoi? ma poi Mastanile ma vedete a capire che le femmina non capisci ma chi ne vuoi Mastanile? chi Mastanile? so chi Mastanile? io mi chiamo Mastanile mica voi pronto pronto finalmente è arrivato la mia casa che è giusto allora ma ha già cominciato la roba una volta eh ha cominciato la roba allora hai ricevuto un ordine via fax o fax è arrivato a sarno fax o fax dove è arrivato su fax? allora chi è o fax? questo è un coppogame sono castriato sto arrivando a casa tua scaricare la roba mi date le sordi e mi lo fate tutto qua scaricare la roba? che roba è? chi è? non c'era da voi ma stani ma chi sei nato ignorante? chi sei nato ignorante? allora 34 sacchetti e giumetri ti tengo coppogame 34 sacchetti e giumetri dai giumetri eeeh date tutto a casa tua a casa tua a casa mia ehi ehi ma stani sta sottoponto ma non sentite che questo non capisce niente è un povero ignorante ma stai ma spiagli allora tengo 34 sacchetti e giumetri ehi o tengo la roba che mi scarica un coppogame e io ti rimacchiamo per prendere ma fai sulle caccheronote ti sbagliate nulla si tu tengo un sciatta pure tengo tutta sta roba tengo un spezzafir la raggiungiamo questa roba stai ma sei nata lode tu vieni a scendere la cucina e fai purpetta tu ehi ahhh e ma scusa ma che ne stai ancora a fare ahhh non ci ho capito non si ferma la log ahhh chiamma la voce a te qua ehi pronto sentite sto qua fuori allora ma scarica vabbò non mi senti a scaricare da quella ahhh ha capito si ha capito o no ma come mi permette e tu quando ti parla non hai dire che ahhh stai sentendo tutte quelle che stai ricendo e che ho sentito lo stai scassendo ahhh ma come mi permette ho capito ho capito ho capito ma come mi permette ha capito ha capito si che è proprio ahhh ma come mi permette ma hai capito ma fai purpetta ma hai capito o no tu vigi i dai ga roppi capito ma stani ma hai capito ma hai capito